dal 1915 la relatività generale ci fa esplodere il cervello ma io sono convinto che la si possa spiegare in modo semplice in un tempo relativamente contenuto salve a tutti i crononauti e bentornati su spazi attorcigliati io sono sempre davide e oggi vi voglio parlare come ho detto in apertura di relatività generale per farlo devo introdurvi due osservazioni fondamentali partiamo subito con la prima l'accelerazione è gauge o meglio noi vogliamo che l'accelerazione non modifichi la forma delle leggi della fisica vogliamo che le leggi della fisica abbiano la stessa identica espressione matematica per tutti gli osservatori anche se tra questi osservatori c'è un'accelerazione relativa se vogliamo questo è il famoso principio di covarianza generale da un punto di vista pratico cosa significa significa che noi scriviamo la nostra teoria in termini geometrici noi abbiamo un certo spazio ancora prima della relatività generale possiamo tranquillamente parlare di fisica classica newtoniana noi abbiamo un certo spazio su questo spazio mettiamo certe coordinate e la nostra teoria è fatta è una sorta di torta in cui infiliamo alcuni oggetti geometrici legati da alcune equazioni che assegnano a questi oggetti geometrici certe proprietà questo è il modo più generale in cui la possiamo esprimere ecco il principio di covarianza generale da un punto di vista geometrico è il semplice fatto che una volta che mettiamo delle coordinate su questa su questo spazio quindi per prima avevamo uno spazio con degli oggetti geometrici ora ci mettiamo delle coordinate tipo x y z e possiamo scrivere questi oggetti geometrici esplicitamente pensate alla nozione di vettore non un vettore come freccetta quando mettiamo delle coordinate possiamo scriverlo come tripletta di numeri stiamo assolutamente facendo quella roba lì passare da un osservatore a un altro osservatore significa in soldoni in soldoni fare un cambio di coordinate questo vale per tutti gli osservatori anche se tra questi osservatori appunto c'è accelerazione reciproca ok c'è una reciproca accelerazione non sono inerziali l'uno rispetto all'altro anche se questo termine è così confuso che lo voglio abbandonare ora il principio di covarianza generale ci dice che la fisica deve essere invariante rispetto a queste trasformazioni dunque invariante rispetto a cambi di coordinate e quindi noi scriviamo le cose e ci accorgiamo che un cambio di coordinate non porta contenuto geometrico cosa fa un cambio di coordinate cambia l'espressione esplicita no la forma di un oggetto delle componenti di un vettore ad esempio se cambiamo coordinate cambia il numerino che indica le varie componenti ma il vettore resta lo stesso questo lo chiameremmo diffeomorfismo passivo in gergo che è in gergo un pochetto relativistico un pochetto fisico ma in sostanza stiamo solo dicendo che noi su questo spazio possiamo cambiare delle coordinate cosa che da un punto di vista fisico corrisponde al passaggio da un osservatore a un altro osservatore che questo cambia la forma esplicita in un certo sistema di coordinate dei nostri oggetti geometrici ma non cambia la sostanza della geometria l'informazione sulla geometria resta invariata e quando introduciamo la metrica dello spazio tempo noi vediamo che la metrica nel passaggio da un sistema di riferimento all'altro di un sistema di coordinate all'alto a un sistema di coordinate all'altro cambia nella sua forma esplicita ma il suo contenuto geometrico la curvatura se vogliamo poi dipende dalle dimensioni e così via ma la curvatura non cambia lo scalare di curvatura non cambia le informazioni sulla vera geometria restano quelle che sono quindi questo tipo di trasformazione è incorporato proprio in un cambio di coordinate che modifica le espressioni esplicite ma non la vera informazione sulla geometria e questa è la prima osservazione passiamo alla seconda se noi siamo in un certo campo gravitazionale costante ovunque quindi senza variazione tra diversi punti dello spazio esiste sempre un certo sistema di riferimento che annulla l'effetto di quel campo gravitazionale sull'osservatore è il sistema di riferimento in caduta libera se c'è un campo gravitazionale ovunque nell'universo io mi lascio cadere liberamente seguendolo io quel campo gravitazionale non lo sento più è come se fossi in un universo dove non c'è alcun campo gravitazionale non sento peso ok e quindi in qualche modo ovviamente per passare a quel sistema di riferimento in caduta libera da un sistema di riferimento generico devo accelerare per passarci ok perché questi due sistemi in generale saranno accelerati l'uno rispetto all'altro non saranno necessariamente inerziali quindi in soldoni stiamo dicendo che l'accelerazione mi permette di eliminare un pezzo un certo tipo di campo gravitazionale prima osservazione l'accelerazione mi permette di modificare di agire sulla parte meno interessante della geometria sulla parte banale della geometria seconda osservazione l'accelerazione mi permette di giocare sulla parte banale poco interessante del campo gravitazionale perché perché questo vale solo in senso globale per campi gravitazionali uguali ovunque no perché se io prendo un campo gravitazionale che cambia nello spazio ho sempre un sistema in caduta libera tale che nel punto in cui sono io non veda un campo gravitazionale ma intorno a me un pezzo di quel campo gravitazionale sopravvive quindi esiste sempre un sistema di riferimento in caduta libera tale che punto per punto io possa cancellare con un'accelerazione l'effetto del campo gravitazionale ma intorno a me io vedo ancora un pezzo che avanza di quel campo gravitazionale è quello che noi fisici facciamo quando passiamo in coordinate di Riemann su una varietà per chi sa di cosa io stia parlando quel pezzo è proprio codificato dalla curvatura quindi capite queste due osservazioni in qualche modo si legano prima diciamo che l'accelerazione ci permette di eliminare di giocare col pezzo banale della geometria senza cambiare la parte sostanziale ovvero la curvatura scalare qualche modo la se le informazioni vere sulla geometria il secola seconda osservazione ci dice che l'accelerazione ci permette di agire sulla parte banale della gravità ma senza modificare la parte vera della gravità codificata poi in relatività generale dalla curvatura ma questo non lo sappiamo ancora quindi accelerazione agisce sulla parte banale della geometria o sulla parte banale della gravità l'accelerazione non può rimuovere tutte le informazioni sulla geometria l'accelerazione non può rimuovere tutte le informazioni sulla gravità nel senso più generale è proprio da questo parallelo è proprio da questo parallelo che possiamo partire per fare il salto verso la relatività generale ci aggiungiamo anche la relatività speciale ovviamente quindi dicendo che localmente la fisica deve seguire le leggi della relatività speciale e portando alle estreme conseguenze le prime due osservazioni otteniamo la relatività generale cosa intendo intendo che tutto questo discorso è pre relatività e ci dice solo che in qualche senso in qualche modo la parte banale della geometria è legata alla parte banale della gravità non che tutta la geometria è legata a tutta la gravità ma solo che l'accelerazione ci permette in qualche modo di legare la parte banale della geometria alla parte banale rilevante della gravità e qui facciamo il salto assumiamo non solo che valga questo ma che in generale tutta la gravità tutta l'informazione sulla gravità sia legata a tutta l'informazione sulla geometria quindi se l'accelerazione prima della relatività generale ci permette di costruire un ponte tra la parte banale dell'accelerazione la parte banale della geometria sulla parte banale della geometria la parte banale della gravità a quel punto noi facciamo un salto e ci diciamo che esiste anche un ponte tra la parte non banale della geometria e la parte non banale della gravità ovvero che i gradi di libertà fisici la vera fisica del campo gravitazionale che è quella roba che non puoi eliminare con un'accelerazione nel caso generale sia legata alla parte non banale di curvatura della geometria che è esattamente quella cosa che non puoi eliminare con un'accelerazione quindi tutto torna e questo è il saltino imponendo queste cose imponendo che nel limite di campi gravitazionali deboli e più o meno stazionari tu abbia la gravità di newton e aggiungendo la relatività speciale quindi imponendo consistenza con la fisica precedente alla relatività generale noi troviamo le equazioni di campo di einstein e questa amici miei è la relatività generale in pochi minuti se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e recuperate quello di settimana scorsa che vi lascio qui con un click e ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti